Rosario del preziosissimo sangue di Gesù Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Nel primo mistero contempliamo Gesù che versò sangue nella circoncisione. O Gesù, Figlio di Dio fatto uomo, il primo sangue che è versato per la nostra salvezza ci riveli il valore della vita e il dovere di affrontarla con fede e coraggio nella luce del tuo nome e nella gioia della grazia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Ti supplichiamo, Signore, di soccorrere i Tuoi figli che hai redenti col Tuo sangue prezioso Nel secondo mistero contempliamo Gesù che è verso sangue nell'orto degli ulivi Oh Figlio di Dio, il Tuo sudore di sangue nel Gezzemani, susciti in noi l'odio al peccato, l'unico vero male che ruba il Tuo amore e rende triste la nostra vita Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Ti supplichiamo, Signore, di soccorrere i Tuoi figli che hai redenti col Tuo sangue prezioso Nel terzo mistero contempliamo Gesù che è verso sangue nella flagellazione O Maestro Divino, il sangue della flagellazione ci sproni ad amare la purezza, perché possiamo vivere nell'intimità della Tua amicizia e contemplare con occhi limpidi le meraviglie del Creato Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti supplichiamo, Signore, di soccorrere i Tuoi figli, che è redenti col Tuo sangue prezioso. Nel quarto mistero contempliamo Gesù che è verso sangue nella coronazione di spine. Oh Re dell'Universo, il sangue della coronazione di spine distrugga il nostro egoismo e il nostro orgoglio, perché possiamo servire in umiltà i fratelli bisognosi e crescere nell'amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, re sempre, nei secoli dei secoli. Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, re sempre, nei secoli dei secoli. Amen Ti supplichiamo, Signore, di soccorrere i Tuoi figli, che hai redenti col Tuo sangue prezioso Nel quinto mistero, contempliamo Gesù che è verso sangue sulla via del Calvario O Salvatore del mondo, il sangue versato sulla via del Calvario, illumini il nostro cammino e ci aiuti a portare la croce con Te, per contemplare in noi la Tua passione Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, re sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, re sempre, nei secoli dei secoli. Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, re sempre, nei secoli dei secoli. Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, re sempre, nei secoli dei secoli. Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti supplichiamo, Signore, di soccorrere i Tuoi figli che erredenti col Tuo sangue prezioso. Nel sesto mistero, contempliamo Gesù che è verso sangue nella crocifissione. O Agnello di Dio, immolato per noi, insegnaci il perdono delle offese e l'amore ai nemici. E Tu, Madre del Signore nostra, rivelaci la potenza e le ricchezze del sangue prezioso. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti supplichiamo, Signore, di soccorrere i Tuoi figli, che è redenti col Tuo sangue prezioso. Nel settimo mistero, contempliamo Gesù che è verso sangue nella lanciata al cuore. O cuore adorabile, trafitto per noi, accogli le nostre preghiere, le attese dei poveri, le lacrime dei sofferenti, le speranze dei popoli, perché tutta l'umanità si riunisca nel Tuo regno di amore, di giustizia e di pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Ti supplichiamo, Signore, di soccorrere i Tuoi figli che erredenti col Tuo sangue prezioso Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen